ingresso in sfida di crono allora vediamo un po' questa cripta che stronzi che siete aia in testa allora aspettate ho fatto una grandissima cazzata portavamo benissimo fare così è fatta dunque evolutiamo un po' le opzioni che abbiamo lì davanti c'è il fulmino di zeus e lì c'è lo scrigno sicuramente dovremmo andare qui per recuperare qualche cassa a Non la posiamo qui, niente, bastardi, siete un po' bastardi eh. Ok. Ok. Eh, cosa c'è sblo- ah, questi, questi raggi. Che me ne frega. Io dovrei buttarmi qui. Facciamo una cosa. Beh, 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 beh. E qui, e qui ci vuole imprecisione. C'è troia. Che sfiga di merda eh. Però, aspettate. No ragazzi, questa è sfiga eh. Che sfiga di merda. Copricappo della vittoria. Gueli. Buongiorno. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.